Vi voglio confidare una cosa, ho 73 anni e tra qualche mese ne avrò 74, conosco anche un gruppetto di persone che all'incirca ha la mia stessa età, non siamo dei coglionazzi da panchina, siamo delle persone estremamente creative ed operative. Mi sto chiedendo, siccome si parla tanto di start-up e quando si parla di start-up si parla giustamente di dare una mano a giovani imberbi con delle idee, ma una start-up degli ultra settantenni sarebbe possibile nel caso in cui naturalmente presentasse idee molto innovative, molto creative, forse più creative di quelle che può presentare un ventiquattrenne. Grazie. 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 Grazie.